centro allora sua eccellenza cardinale zucchi vorrebbe inoltrare un messaggio a tutti gli equipaggi impiegati sul territorio ecco sono don matteo voglio dare a tutti quanti che state garantendo l'ordine la sicurezza dare il grande ringraziamento e soprattutto un buon natale perché sia un natale per voi per le vostre famiglie di tanta pace e tanta fraternità noi ce ne abbiamo bisogno straordinario scherzando prima ho detto che forse bisogna fare un intervento zona betremme a cercare andare a trovare un bambino che sta in una mangiatoia che regala a tutti quanti il senso della vita io ve lo auguro tanto anche a voi questo è davvero un buon natale di un vostro servizio sempre di aiutare e di mantenere con quella forza che è così importante per affrontare il male grazie buon natale a voi e tanto soprattutto quasi per certi versi ancora di più ai vostri cari quelli che sono a rete vicino che spero che potrete andare a trovare presto quelli che sono più lontani che possono sentire tanto il vostro affetto e possono sentire tanta pace di Dio che viene tra gli uomini perché possano gli uomini imparare da lui ad amarsi grazie e buon lavoro e soprattutto buon natale questo prima che gli succeda qualcosa grazie 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 a tutti.